In collaborazione con Fiat Auto Francia, a Torino, da 50 anni accanto a voi, Automobili Carrozzeria Farina, affiliato Carglass, dal 1980 al vostro servizio. Siamo a Torino, in Via Levone 6. Siamo a Torino, in Via Levone 6. Siamo a Torino, in Via Levone 6. Nella Valtellina, l'Ice Challenge 2019, il campionato italiano riservato alla velocità su ghiaccio promosso dalla BMG, che dopo questa gara farà tappa pragelato il 26 e 27 gennaio e 9 e 10 febbraio, per concludersi con il round finale a Serge Valier, in programma nel weekend fra il 16 e 17 febbraio. Dopo il forzato rinvio a Riva Valdobbia, è il collaudato impianto di Livigno ad inaugurare la stagione agonistica invernale, che presenta alla Via ben 37 vetture. Un risultato che premia senza dubbio il grande sforzo organizzativo messo in campo dal team guidato da Luca Meneghetti. Gli spunti di interesse non mancano con la presenza di Sergio Durante, campione in carica alla Via con la Citroen DS3. Cerchiamo anche quest'anno di andare forte, siamo partiti già più o meno, adesso vediamo il resto della stagione, ci stiamo impegnando, la macchina va bene, vediamo anche il pilota di farla andare bene. E la ibrida, abbiamo deciso adesso di fare un nuovo progetto molto ambizioso in un ambiente completamente diverso, quindi stiamo utilizzando Tor Power Trend ibrido per un'altra applicazione che diventerà pubblica fra qualche mese, penso. Volevo anche dire che quest'anno abbiamo deciso anche con la società di sponsorizzare questo campionato, perché ci crediamo molto, speriamo che negli anni prossimi diventerà internazionale, diventerà più importante del trofeo Andros, che è un campionato riconosciuto a livello mondiale ormai, quindi ci stiamo impegnando per questo. Ma il veloce pilota Ligure deve fare i conti con i consueti avversari di sempre. Ad iniziare da Luciano Cobbe in gara sulla Ford Focus, per passare ad Aldo Pistono sulla Opel Astra, Rudy Bicciato sulla Lancia Delta, Ivan Carmellino ritornato sulla Punto Abarth. Direi che questa stagione è partita un po' così, non sappiamo ancora bene cosa fare, che gare fare, se fare tutto il campionato. Abbiamo pensato di cominciare a partecipare a questa gara qui a Livigno, abbiamo deciso all'ultimo momento, abbiamo avuto alcuni problemi con la macchina già da ieri, poi col discorso impegnativo che abbiamo nella nostra pista, l'Eister of the Ring, diamo prima priorità al lavoro su e poi vedrò se partecipare alle altre gare del campionato o meno. E qui a Livigno non poteva mancare la famiglia Bormolini al gran completo, con Loris, Michele, Alessio, Mauro, Andrea, capitanati dall'esperto Oliviero. Fra le novità di questa nuova stagione il trofeo concessionaria Fiat RB, che premia per ogni appuntamento il concorrente più spettacolare, designato da una giuria composta da 5 spettatori. Una pista in perfette condizioni accoglie i concorrenti per le prove di qualificazione, che mettono subito in evidenza il giovane Alessio Bormolini, che a bordo della Skoda Fabia precede per pochi decimi Oliviero Bormolini sulla Lancia Delta S4. Molto bene in questa prima fase Aldo Pistono sulla Opel, Sergio Durante sulla Citroen, Giovanni Saracco all'esordio sulla Mitsubishi, e Ivana Carnellino sulla Punto, che chiudono nell'ordine. Nella categoria riservata ai cut cross c'è da sottolineare la presenza di Virginia Moncini sulla sua Kamikaze 2. In una classe dove spicca l'ottimo inizio di Simone Firenze, il quale precede Cristian Tiramani e lo sfortunato Armando Bracco, campione 2018, autore di un inizio difficile dove capotta il suo speedcar. Nella categoria riservata aiutare la presenza di Virginia Moncini sulla sua Kamikaze 2. Nella categoria riservata aiutare la presenza di Virginia Moncini sulla sua Kamikaze 2. Nella categoria riservata aiutare la presenza di Virginia Moncini sulla sua Kamikaze 2. La prima giornata nella bella località della Valtellina è caratterizzata da un bel sole. Ma nella notte inizia a nevicare ed è con queste condizioni che si apre la seconda determinante giornata dell'Ice Challenge 2019 all'Ivigno. Sotto una copiosa nevicata Ivan Carmellino fa segnare il miglior tempo nella prima manche a bordo della Fiat Grande Punto. Il pilota balsesiano precede Michele Bormolini e a pochi centesimi il fratello Alessio, entrambi sulla stessa Skoda Fabia. Il giovane Matteo Antonazzo chiude con il quarto tempo a bordo della Lancia Delta, identica a quella di Lucas Bicciato che lo segue. Oliviero Bormolini da spettacolo a bordo della bellissima Lancia Delta S4. E conclude questa prima manche con il sesto tempo. Partenza prudente per la Citroen DS3 di Sergio Durante che chiude con un poco soddisfacente quindicesimo tempo. Fra i VST svetta Cristian Tiramani sulla Kamikaze 2 davanti a Simone Firenze e Raffaele Silvestri. Gara da dimenticare per Armando Bracco che rompe la frizione e si ritira. Bene l'inizio per Virginia Moncini che sta prendendo confidenza con questa nuova esperienza. Nei momenti di pausa fra le manche il pubblico si diverte con le evoluzioni della campione di rally Gigi Galli, la guest star dell'evento che dovrebbe essere presente nei prossimi appuntamenti del trofeo come protagonista. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il mio obiettivo da inizio carriera, prima dell'inizio carriera era un meccanico, perciò sono sempre stato affascinato dalla tecnica. L'entrata nel VRC come pilota mi ha dato modo di conoscere l'ingegneria e lo sviluppo che negli ultimi anni hanno avuto le vetture da corsa, rally eccetera. Questo mi ha svegliato il meccanico che c'era in me e da qui nasce il progetto rally cross che ti dà la possibilità, il regolamento, di costruirti una macchina con le tue forze. Con l'aiuto di un'ingegneria conosciuta nell'ambiente dei rally ho costruito, questa è la seconda macchina che facciamo e l'abbiamo costruita proprio per passione. Per adesso mi fermo qua, ma guidarla da piacevole sensazioni, perciò non possiamo mai escludere niente, mai dare niente per scontato. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia, su oltre 400 autovetture in pronta consegna, supervalutazione del vostro usato, fino a 2000 euro anche se vale zero. Autofrancia, Corso Francia 341 a Torino. Scopri di più su autofrancia.it Autofrancia Da 50 anni accanto a voi Si parte per la seconda manche, dove Alessio Bormolini non ci sta a perdere sulla pista di casa. Non dopo il riscontro cronometrico fatto segnare nel corso delle qualifiche. Infatti il giovanotto figlio d'arte mette la scoda davanti a tutti, migliorando di quasi 7 secondi il miglior tempo fatto segnare nella prima manche da Carmellino, che chiude le sue spalle. Seguito rispettivamente da Michele e Oliviero Bormolini e da Matteo Antonazzo. Più staccati i consueti protagonisti della serie, vale a dire Aldo Pistono, Rudy Bicciato, Sesto e Settimo, mentre Sergio Durante chiude Nono alle spalle di Saranco. Simone Firenze ha la meglio nella classe riservata ai VST, davanti a Cristian Artiramani e Raffaele Silvestri. Buona la prova di Virginia Moncini. Si va alla terza ed ultima manche, dove Alessio Bormolini sulla scoda Fabia piazza il colpo decisivo, vincendo la manche e precedendo di un soffio la Opel di Aldo Pistono. Oggi è andata molto bene la gara e sono riusciti a strappare l'assoluta, il primo tempo, davanti a Ivan Carmellino, il pluricampione italiano di neve ghiaccio. Terzo c'è il fratello Michele Bormolini, 17enne, quindi è andata molto molto bene e siamo contentissimi. Non ci aspettavamo questo risultato, vista la macchina, che è derivazione rally, è un R5, una scoda Fabia R5. La flangia è da fish, omologazione rally, quindi a 300 cavalli, molto meno rispetto a tanti prototi, a proto e altre macchine. Però la dinamica del veicolo è impressionante, è andata molto molto forte e noi siamo riusciti a portare a casa la vittoria. E' in casa perché è qui al ghiacciodromo Livigno, siamo figli di Oliviero, il proprietario del ghiacciodromo e del tracciato e quindi è una soddisfazione enorme. In casa per noi è come un mondiale, quindi siamo contentissimi. C'è l'idea di proseguire nel campionato, visto anche il risultato portato in casa, sia io sia il fratello piccolo Michele, quindi io ventenne e il Michele diciassettenne, sempre su Skoda Fabia R5 e in caso ci rivedremo nei prossimi appuntamenti del campionato italiano. Ciao a tutti! Lucas Viciato, a bordo dell'aranciadetta, fa segnare il terzo tempo, davanti all'appunto di Ivan Carmellino, che non riesce a contenere l'esuberanza di Alessio Bormolini e chiude questo primo appuntamento dell'Ice Trophy al secondo posto. Conquista il terzo gradino del podio Michele Bormolini, il più giovane fra i piloti in gara, sulla Skoda che divide con Alessio, mentre quanto è Matteo Antonazzo, a dimostrazione di quanto questo primo appuntamento sul ghiaccio abbia messo in evidenza le nuove generazioni. Oliviero Bormolini conclude quinto sulla Delta S4, mentre fra i kart cross vittoria per Cristian Tiramani, che supera la fotofinish Simone Firenze. Nell'ormai consueto Master King, il successo va come lo scorso anno alla Citroen DS3 di Sergio Durante, che in questo modo riscatta una giornata poco frizzante, davanti ad Aldo Pistono, che rimane piantato all'accendersi del semaforo verde, con Luca Maspoli a completare il podio. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tra le due ruote motrici successo per Mattia Kola sulla Volkswagen Golf. Grazie a tutti. Siamo contentissimi, pensiamo di aver fatto il salto e assolutamente, come avevamo promesso, ci tenevamo a farlo e comunque non molliamo e andiamo avanti così. Un ringraziamento a tutta la squadra, al team che si è ingrandito, dei nuovi amici che ci stanno dando una mano, ma soprattutto ai nuovi partner pubblicitari che abbiamo, che senza di loro non riusciremmo a far passare agli appassionati e ai piloti giornate come ieri e oggi qui a Livigno. Un grazie di dovere Oliviero Bornolini che ci ha ospitati su questa pista che non ha avuto il minimo problema, oggi abbiamo avuto anche la neve che ha dato quel tocco speciale al campionato. Adesso tutti a casa e iniziamo già a lavorare perché tra 15 giorni appuntamento a Pragelato per continuare questo campionato alla grande. I prossimi appuntamenti dell'ICE Challenge 2019 sono a Pragelato il 26 e 27 gennaio e 9 e 10 febbraio. Il round finale è atteso a Serge Valier nel weekend fra il 16 e 17 febbraio. Motor Week vi aspetta a Pragelato per un altro emozionante appuntamento dell'ICE Challenge. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook. Motor Week vi aspetta aatique unaprint che sta a neuidades e osservato anche con i posti personati. Erfolgariamente dalle liste, sacrificando il suo appuntamento dell'ICE Challenge. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. In collaborazione con Fiat Auto Francia a Torino da 50 anni accanto a voi. Automobili, 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 carrosseria Farina. Grazie a tutti.